La gara, l'azzurra, nel suo neme quitte pass, è come sempre ammaliante. E pressoché perfetta. Ha solo una minima sbavatura in uscita dalla combinazione iniziale, triplo tuelo up, triplo tuelo up. Per il resto, triplo lo up e doppio axel compresi, è un incanto, con quella sequenza di passi, che toglie il fiato. La gardenese merita 74,57,37,25 per il merito tecnico e 37,32 per quello artistico. Il totale è inferiore di 5-100, un nulla, rispetto a quanto ottenuto 20 giorni alla Rostelecom Cup di Mosca, quando chiuse il corto al terzo posto e poi la gara al secondo. Ma il gap con la Medvedeva si riduce un po'. Allora la campionessa del mondo centrò un 80.75, stavolta si attesta a 79.99. Terza, a Osaka, è Polina Tsurskaya, altro fenomeno russo, 16enne al debutto nel circuito. Compagna di allenamenti della Medvedeva, e a sua volta allieva di Eteri Tutberize. Il suo 70.04, primato personale, dice di un enorme potenziale. Nell'ambito di una gara di alto livello, più lontane le altre, compresa la rientrante giapponese Satoko Miyahara, sesta con 65.05. La dedica, domani, dunque, con Anna Cappellini Luca la notte all'alba italiana impegnati nel corto della danza, il libero. Carolina, con il suo Il pomeriggio di un fauno, sarà in pista alle 18.21 locali, le 10.21 italiane, ultima atleta di 12. Come oggi, ad accompagnarla in Balaustra, ci sarà Mika Eluti. Il tedesco, sua storica guida, ha conferma di un rapporto ma è venuto meno, nell'occasione sostituisce Alexei Michin che evidentemente, dopo tanti impegni internazionali, si è Concesso un turno di riposo